In una caldissima domenica 30 giugno prende via il decimo trofeo Comune di Breno, gara riservata alla categoria esordienti, organizzazione curata dall'Unione Ciclistica Valle Camonica che anche nel 2019 ha messo in cantiere questa splendida manifestazione. I primi a partire come di consuetudine sono gli atleti del primo anno, primo anno di attività per loro e in assi di partenza abbiamo visto circa 50 atleti prendere il via in questa ultima domenica di giugno. Siamo ancora nelle primissime fasi di gara ma già gli allunghi si fanno vedere, un atleta del Rodengo Sayano che ha proposto il primo attacco di giornata, si tratta di Andrea Bonardi che però in questo frangente sta per essere recuperato dal Plotone. Plotone che è allungato in una lunghissima fila indiana dovuta sia dalla difficoltà del percorso che dall'andatura tenuta abbastanza elevata dai ragazzi che comandano in questo momento il Plotone. Si sta per esaurire l'azione di Bonardi in questo tratto di leggera ascesa, vediamo i ragazzi che cominciano già a bere perché il caldo quest'oggi si fa sentire nonostante la partenza è stata di prima mattina alle ore 9 ma il sole è già alto in cielo e sta battendo a tutta sui caschi degli atleti. Il percorso praticamente invariato rispetto alle ultime edizioni vede una prima partenza davanti al comune di Breno per poi effettuare un piccolo tratto di trasferimento fino diciamo alle porte del paese dove viene data la partenza ufficiale con piede a terra. I comuni toccati sono quelli di Niardo, Braone, Ceto, Badetto di Ceto dove troviamo un leggero strappo e poi gli atleti imboccheranno la tangenziale a scendere per tornare in quel di Breno. Dal punto di vista tecnico il percorso è piuttosto impegnativo nella prima fase mentre la seconda strada ampia tutta in leggera discesa a questo tratto di tangenziale che riporta gli atleti verso il traguardo. Un tratto molto veloce dove il gruppo può fare forti velocità appunto per cercare di rintuzzare coloro che nel tratto più duro cercano magari l'allungo. Il tratto più impegnativo invece è proprio al giro di boa del circuito che quest'oggi i ragazzi dovranno ripetere tre volte. A Badetto di Ceto si arriva dalla statale vecchia una curva secca a destra dove i ragazzi devono poi rilanciare subito la loro bicicletta, il loro mezzo meccanico nel tratto in salita che porta all'imbocco della tangenziale. Sono circa 500 metri di strappo, le pendenze non sono altissime ma considerando che comunque tutta la strada che da Breno porta a Badetto di Ceto tende leggermente a salire andando verso la valle i ragazzi arriveranno già con la stanchezza nelle gambe quindi è comunque uno strappo che può fare la differenza. Impegnativo poi anche il tratto finale, il vero e proprio arrivo che appunto vede un bel viale largo ampio ma tutto in leggera scesa quindi attenzione anche in vista della volata finale. Si ritorna verso la valle, iniziano ancora alcune scaramucce, un altro tentativo di fuga in questo momento è in azione, sono due atleti, un portacolori della Feralpi, si tratta di Domenico Mandarino seguito dal Trentino della ciclistica Draw. Christian Spada, i due stanno andando in completo accordo, stanno cercando di mettere più secondi tra loro e il plotone ma dietro non si stanno lasciando andare, non stanno tirando i remi in barca. La caccia è sempre aperta, stiamo arrivando in questo momento verso il punto di metà circuito quindi Badetto di Ceto quando si svolterà a destra per affrontare lo strappo che porta verso la tangenziale dove i due continuano a spingere sui pedali per guadagnare ulteriore terreno. I due atleti al comando, Mandarino e Spada, continuano nella loro azione anche se si voltano spesso per controllare il plotone alle loro spalle, infatti vediamo che nel plotone un portacolori della ciclistica Draw si trova proprio nelle prime posizioni per cercare di rompere un po' i cambi, anche se ormai il gruppo vede gli atleti nel mirino ma non c'è fretta di andare a riprenderli. Anche nel plotone non c'è un inseguimento organizzato, sono più gli allunghi dei vari ragazzi che fanno aumentare e diminuire il vantaggio della coppia al comando facendogli fare da elastico. Vediamo in questo momento un altro allungo da parte di un atleta della Ronco in testa al plotone, siamo nel tratto di tangenziale, quindi leggera discesa, le velocità restano alte, mentre davanti quando sembra tutto perduto ancora Spada della ciclistica Draw che rilancia l'azione, fa impennare l'andatura ancora una volta per cercare di non farsi riprendere dal plotone. Siamo verso il termine del secondo giro, quindi poco più di 10 chilometri al traguardo. Intanto si comincia a vedere la stanchezza sul volto degli atleti, l'abbiamo ripetuto più volte, oggi è una giornata veramente calda e questo caldo si fa sentire nelle gambe, nelle ossa e quindi è davvero impegnativo quest'oggi portare a termine la propria prova. Intanto vediamo che il portacolori della Ronco è il numero 35, Luca Braghini si è riportato sulla coppia al comando, abbiamo quindi un terzetto che sta provando ancora una volta a guadagnare terreno prezioso, ma come abbiamo visto dalle immagini i metri che li dividono dal gruppo sono davvero pochi, vedremo come proseguirà quest'azione. Abbiamo visto Braghini che nel rientrare sulla coppia al comando si è messo subito in testa a tenere alta l'andatura, poi ha chiesto il cambio, ma nella coppia che era già in avanscoperta ormai la stanchezza si fa sentire, le gambe cominciano ad essere pesanti ed infatti il plotone sta rinvenendo su di loro ad una velocità altissima. Inizio del terzo giro e nuovo attacco, nuovo tentativo di fuga, in questo caso si tratta del numero 28, Davide Quirini del progetto ciclistico Rodengo Saiano. E' lui che prova in questo momento a evadere dal plotone, ma come vediamo questi scatti riescono a prendere un minimo vantaggio, il plotone li tiene lì nel mirino pronto ad accelerare al momento giusto per ritornare compatto. Il percorso della gara di Breno, un percorso ormai collaudato al decimo anno di svolgimento, non facilita gli attacchi se non di quegli atleti che hanno proprio la gamba per poter fare la differenza. Infatti questi lunghi falsopiani in salita, se la condizione non è più che ottima, un atleta da solo in avanti scoperta fa fatica a tenere il vantaggio rispetto al plotone e una volta esaurite le proprie forze possiamo dire che quasi rientra da solo in gruppo. Infatti anche per questo la corsa è stata piuttosto controllata, quest'oggi non abbiamo visto come negli anni scorsi qualche atleta che ha saputo fare nettamente la differenza e molto probabilmente l'epilogo di questa prima manche del decimo trofeo comune di Breno sarà in una volata a ranghi compatti o perlomeno un plotone compatto che affronterà lo strappo finale che porta verso il centro del comune Camuno per giocarsi la vittoria. E gli atleti in questo momento stanno affrontando per l'ultima volta il tratto di salita a Badetto di Ceto vediamo sulla testa del plotone un portacolori della Villongo, l'andatura è bruscamente calata in queste fasi finali gli atleti si stanno un po' studiando, si stanno preparando in vista dell'arrivo finale scopriremo tra poco chi riuscirà a dominare quest'oggi qui nel decimo trofeo comune di Breno. Sta per finire anche l'ultimo strappo, si sta immettendo ormai nella tangenziale quindi una lunga e inesorabile leggera discesa che porterà fino ai piedi della salitella finale che porta gli atleti davanti al municipio di Breno dove è posto lo striscione rosso del traguardo. Il plotone sembra ormai rassegnato, gli attaccanti sembrano avere tirato i remi in barca stanno ormai tutti attendendo di arrivare sotto lo strappo conclusivo per dar fondo alle ultime energie e cercare di ottenere la migliore posizione possibile. Ed eccoci sul rettilineo finale del traguardo, gli atleti escono dall'ultima curva è ancora un gruppetto abbastanza nutrito, quello che sta lottando per la vittoria al comando vediamo un portacolori di casa che riesce a conquistare la vittoria con un bellissimo sprint si tratta di Gabriel Cominelli appunto della Valle Camonica che precede Andrea Rinaldi e Tommaso Marchese Gabriel Cominelli, grandissima volata, grandissima vittoria nel trofeo comune di Breno in casa Sì, molto importante questa vittoria soprattutto perché avevo perso un po' di speranza dopo che due volte non sono neanche arrivato nei dieci Una corsa tirata si è risolta comunque con la volata finale sullo strappo che porta verso l'arrivo Sì, era partito romenico mandarino ai 300 metri, da lì abbiamo iniziato a spingere a un certo punto ai 100 metri, ho visto che non avevo nessuno in parte e ho capito che ormai avevo vinto A chi la dedichi? A mio nonno che è al momento in ospedale Secondo classificato in questa decima edizione del comune di Breno Volevi eguagliare il fratellino che aveva in Luca che aveva vinto l'anno scorso Sì, è stata una gara molto dura perché c'erano quei tre strappi però in volata sono riuscito a fare il secondo Contento? Sì, sì Allora la vittoria è al prossimo anno? Speriamo E abbiamo il terzo classificato, Tommaso Marchese, lo vedete ancora molto assonnato È partito a tre e mezzo da troppo per raggiungere Breno Tantissimi piazzamenti e un altro piazzamento che vai a mettere insieme a tutti gli altri dall'inizio della stagione per Tommaso Marchese Sì, un altro piazzamento, è molto contento e questa gara è stata molto dura con tanti scatti Sì, e poi quei due o tre strappetti che facevano male alle gambe Comunque direi che vai a casa soddisfatto Sì, sì, molto soddisfatto La classifica vede al decimo posto Andrea Pizzighella della Valeggio Davanti a lui il suo compagno di squadra Filippo Consolini Ottavo posto per Sufian Rain della Mazzano Settimo Michele Bicelli della Feralpi Sesto Cristian Pizzuti della Team Ekoi Quinto posto per Alessandro Cohen della Villongo Quarto Domenico Mandarino della Feralpi Terzo posizione per Tommaso Marchese della ciclistica DRO Secondo Andrea Rinaldi del Velo Club Sarnico Vincitore Gabriel Cominelli della Valle Camonica Grazie a tutti!